Allora per il dilugio innanzitutto affanculo ok oggi è stata una giornata insomma abbastanza impegnativa in realtà non avrei neanche cioè non avrei neanche streammato generalmente però siccome ho l'ansia generalizzata sto male eccetera eccetera in realtà streammame fa passare l'ansia o meglio non mi ce fa pensare e quindi facciamolo come un processo terapeutico Aurelius, Aurelianus ci ho fatto una live per ieri le 4 ore e mezza ci ho fatto un video, dobbiamo ancora parlarne? cioè ancora dopo questo devo sentire D è semplicemente un boomer che parlava di altri boomer davvero? dai basta ne ho parlato abbastanza cioè se ancora pensate questo eh non mi venire a D perché tanto si intoppiamo eh lo so twinir non è terapeutico però comunque non mi fa pensare al fatto che c'ho l'ansia quindi magari mi è un cazzo per twinir però mi viene meno ansia ah premetto che io questo tizio non so proprio che sia onestamente non me ne frega neanche un cazzo però però ha fatto un video che mi è stato segnalato ma mi è stato segnalato da da Anna e mi è stato segnalato da da voi in chat mentre adesso laggerà perché l'ho aperto però attenzione che io metterò 1040p tiè tacca da cazzo finalmente del tuo colore l'ultima live era color carotina sì ci stanno le stesse identiche luci ci stanno le stesse luci dell'altra volta pare pare non so proprio che proprio la stesse stesse luci non so a cosa ti riferisci sono proprio contento di aver trovato il tuo streaming la live di ieri sera sarà molto interessante sei spettacolare mi fai morire da ridere dovevo andare a dormire invece sono rimasto up per altre due ore guarda siamo in due pure io dovevo andare a dormire che se la malsà vabbè malsà presto perché abbiamo il vaccino all'una e mezza mi sembra un po' esagerato però comunque insomma è proprio tardissimo però vabbè però sti cazzi cioè è bello ciao Carmelo madonna le stacchiamo a Pasquale non so perché sì quindi però è bello mi piace fare quelle live dove puoi entrare se parla se tagliamo stiamo lì sentiamo le cose assurde tipo che cos'è la consapevolezza la consapevolezza è oggettiva e tutte queste cose il concetto di consapevolezza è oggettiva tutte queste cose qua e il 25% della live ieri era Kevin eh vabbè infatti 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 andiamo a Kevin ciò che è di Kevin che esame curo che esame che esame senti ma se ti aprissi c'è cocca per te la posta di cocca c'è cocca per te tipo eh niente Ciro regà ha fatto i soldi ha venduto un po' le droga no io la terza dose l'ho fatta il primo dicembre cioè il 2 dicembre 2 mesi fa l'ho fatta la terza dose no no l'ha fatta Federica la terza dose l'ho accompagnata chi è Twinir? dove mi esprimo? uno youtuber facciamo così youtuber esame di abilitazione alla professione forense due anni di studio ah ma vaffanculo pensavo un esame del corpo che ti faceva capire se c'avevi una malattia eh mi fatto prendere un po' insomma era la live con lei di Ottavia che non andava il led e tu stavi impazzendo ah ma ti rifinisci a quella vabbè ma la live di lei di Ottavia è stata due mesi fa insomma ne so passare ne è passato di tempo eh lo so lo so lo so purtroppo purtroppo posso perfettamente capire il disagio e l'ho ricaricata adesso ma che vuol dire scusa oh ma che vuoi ma come sei ma scusa eh ma l'ho capito ma che vuoi ma guarda te vabbè senti famo sta reaction su dai 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 basta che ho attaccaro pure tardi ah vi dico il programma per questi giorni allora domenica live importante proprio importante ciao abby cosa ne pensi della presenza di Drusilla 4 ma ma che cazzo mi frego ma che cosa ne devo pensare ma che perché questa domanda che ne pensi non è la prima non è la prima volta che mi fanno questa domanda perché c'è Drusilla 4 mi hanno chiesto secondo te perché cioè l'utilità di Drusilla 4 a Sanremo non vedo Sanremo io non lo vedo e non lo voglio vedere ok è successa quella cosa di Checco ho visto quel pezzetto di Checco abbiamo analizzato quel pezzetto di Checco basta non voglio vedere Sanremo non me ne frega un cazzo a meno che non succede qualcosa di cui io magari vi posso parlare non voglio sapere niente quindi Drusilla 4 è una drag queen personaggio si una drag queen sta lì che cazzo ne so io farà quello che fanno le persone che vanno lì a Sanremo che cazzo serve Amadeus a che serve Amadeus a niente non serve un cazzo allora fannemi anche questa domanda abbi sono cambiato un po' di cose all'inizio settembre oggi sono mancato un po' di tempo ti aggiorno su tutto quello che vuoi dimmi so chi è Drusilla 4 si so chi è Drusilla 4 lo so lo so ragazzi lo sapevo anche prima di Sanremo Cristo e Dio mi pare che non so chi è Drusilla 4 non sapevo che io pensavo fosse trans invece avevo scoperto che era che era drag queen e quindi cioè cosa devo pensare ok non mi dà una drag queen a Sanremo quindi non capisco grazie Virginia mi piacciono tantissimo le luci che hai anche io sono anche io non vedo anche io non vedo Sanremo mai oh io per carità e non c'è grazie mille per i sei mesi e grazie per il fatto che ti piacciono le luci io non ce l'ho con Sanremo nel senso fare quello che mi pare a me proprio mi via male è proprio una cosa che non mi interessa vedere proprio non lo vedo secondo te secondo te è un segno di apertura ipocrita esatto ipocrita segno di apertura e poi fanno scherzo insomma ho visto video su youtube in cui leggi il dibattito in cui reggi il dibattito con Alice della terra piattista cristiana filo ariana se non sei esplosa in quell'occasione non sarà certo twin coso come si chiama buttarti giù vabbè ma lì era lì non dovevo ridere ai programmi di questi giorni allora domenica live importantissima proprio importantissima di una Novax che se voi avete visto le storie su Instagram se non le avete viste andate a vederle se non mi seguite andate a seguirmi touch vostra che ha fatto ma ve la leggo questa storia allora tortellino sta nei pressi della casa non so dove si trova in questo momento forse in camera e poi che mi hai chiesto le boschi ogni tanto torna ogni tanto no quando torna è meglio che non lo fa e poi più l'ha imparato qualcosa dalle tue live più l'ha sempre da imparare mi è stato scritto questo non credi che sia un controsenso che tutti siano indignati per checco perché prende di mira le minoranze ma nessuno lo sia per le persone non vaccinate che sono state escluse dalla società come fossero gli anni 30 io vi dico che può allora non allora allora go bang go che vi devo dire cioè ti fa cioè leggo un commento del genere pazzisci cioè un commento del genere ti fa impazzire ti fa impazzire letteralmente cioè a parte chi non si può vaccinare per problemi medici e se non si può vaccinare allora tutto il mio sostegno per la loro integrazione cioè ma le persone che non si vogliono vaccinare che hanno fatto la scelta di non vaccinarsi che io rispetto che non si siano voluti vaccinare la vita è tua ma che poi non ti prendi responsabilità del fatto che non ti sei voluto vaccinare paragonandoti a minoranze ghettizzate tipo tipo gli ebrei per esempio faccio un esempio come negli anni 30 tipo gli ebrei ti stai paragonando perché lo fanno i novax si paragonano agli ebrei ebrei che avrebbero se avessero potuto scegliere non sarebbero più stati ebrei pur di non essere discriminati capito cioè tu veramente ti vuoi paragonare ma poi con me cioè tu vuoi parlare di questa cosa a me cioè ma quanto è scorretta questa cosa cioè tu ti vuoi paragonare la discriminazione che non è discriminazione che io ho detto guarda che la tua non è discriminazione guarda che tu non stai avendo discriminazione è una limitazione ma nessuno ti discrimina non ti pestano di botte perché non ti vaccini cioè se non ti fanno entrare in un posto non è perché tu sei tu e in quanto tu è in base al fatto che tu rappresenti un potenziale pericolo perché hai fatto una scelta ok cioè non c'è proprio quindi insomma questa persona visto che poi si è lamentata che io non ne parlo anzi che persone come me non ne parlano forse perché non lo vogliono fare proprio perché non condividono quella cosa lì quindi no non mi indigno se i Novax non li fanno entrare dentro dentro i posti perché per me insomma allora è stato gestito male tutto quanto siamo d'accordo però comunque non è la mia battaglia non mi interessa portarla avanti e comunque una cosa non esclude l'altra ho capito perché non si può essere indignati di Checco Zalone e allo stesso tempo per i vaccini ho capito cioè Checco Zalone ha fatto una cosa se ne hai parlato per un giorno e tu mi vieni a dire non è un po' assurdo che si parli di Checco Zalone mentre ci sono persone non vaccinare quindi si farà una live con una Novax che inviterà un geopolitico a cui io inviterò una scienziata così da poter avere insomma ok perché quindi domenica Megalive con sul tema vaccini Novax Novax che vengono trattati come gli ebrei eccetera eccetera poi mercoledì no lunedì una live con Virginia che è una un'artista una una ballerina che avrà una storia molto importante da raccontare e molto particolare mercoledì live con Stefano Ferri travestito d'Italia più famoso e che era mercoledì dopo che cazzo era mi ricordo no quello era il 15 no e vabbè la live con l'utilizionista effettivamente è un po' è un po' più in là quindi che cazzo ah sì e poi la live salottino trans dove a questo punto parleremo anche delle cose di Gecko quella però è da pissare con Auri Betta Eloisa e forse anche Stefano Cicconetti no che cazzo dico Stefano vabbè Cicconetti mi ricordo come si chiama hai ragione Luca pare una scheda organizzata sì cross deve essere il più famoso in Italia sì finisce oggi Sanremo hai ragione Ciro ne parleremo ne parleremo ragazzi ne parleremo adesso concentriamoci su non era oggi domani allora domani vabbè comunque per domenica è finito andiamo mi è bastato cercare su internet il significato di transfomia e da tre cani dice che grazie betta culetta betta culetta te piace te piace italianca besce betta culetta passiamo le due grazie hood per gli otto mesi e betta per i quattro grazie mille ma che vuole Tramezzino mi sta informando che finiva domani e non oggi Sanremo grazie mille grazie e non fare il brasileiro non è il brasileiro gabesci italiani questa è è la cosa della telefonata vabbè però questo non è uno stereotipo cioè questo è proprio cioè uno straniero che parla così cioè così come in italiano parlerà male le altre lingue e nelle altre lingue lo pigliano per culo succede la stessa cosa bronde beserie grande per amere becitto allora andiamo andiamo c'è qui anche la mia amica la mia fedelissima amica allora non vorrei non vorrei veramente ritornare su questo argomento non ce la faccio più però vabbè mi hanno detto è che non fai il video su twinir commenti il video su twinir commentiamo il video su twinir vai transessuali la parola violenza la parola violenza è l'inizio di un'altra frase che non c'entra nulla io non mi baserei troppo sul tre cani dato che fino ad un anno fa riportava come cani donna che si concede facilmente capisci quindi che i vocabolari si aggiornano man mano ti pongo una domanda tu andresti mai da una persona nera a dire cos'è il razzismo o meno lo stesso discorso va applicato alle persone trans per la transfobia sì senza ombra di dubbio andrei da una persona nera a dire cos'è il razzismo come andrei da una persona trans a dire cos'è la transfobia se mi rendo conto che non ne sanno significato come in questo caso questo è uno dei vari tiktok che mi è capitato di vedere in cui viene detto che se c'è qualcuno che può stabilire cos'è transfobico e cosa no sono solo le persone trans purtroppo non funziona così io non sono bianco sono mulatto ma non direi che faccio vedere il video tanto non si vede niente in parallelo a quello della transfobia mi riguarda in prima persona eppure non sono io a decidere arbitrariamente se una cosa è razzista oppure no oltre al fatto che il razzismo non è qualcosa che riguarda solo le persone nere ma questo è un altro discorso ma esattamente come una persona gay non può decidere se una cosa è omofoba oppure no invece hai ragione mamma mia ragazzi che argomentazione oh pelle d'oca mamma mia mamma mia pelle d'oca ti prego che c'è da spiegare paralisi dimmi o comunque poi se volete cioè qualche temerario qualcuno che non è pauroso e ha le le palline per venire su discord a esporre e a portare avanti i suoi pensieri mi raccomando mi raccomando non inziate a scrivere i papiri in chat perché poi non ve leggo guarda che l'argomentazione è che mi trovo d'accordo con lui semplicemente e chi dice cosa sta dicendo che deve portare l'argomentazione con te non io te la do subito pezzo per pezzo ti farò sentire sempre più scemo una persona trans non può decidere se una cosa è transfobica oppure no può darti fastidio ma nella lingua italiana la parola con la c che hai detto tu cioè il femminile di cane è usato come insulto per fare riferimento a una donna dai facili costumi il dizionario riporta il significato che le parole hanno nel mondo reale non in un mondo topistico politicamente corretto dove vorrebbero vivere alcune persone che ti piaccia o no che a secondi la tua ideologia oppure no le parole hanno un loro significato solo perché sei trans e solo perché ciò che ha detto una persona ti ha offeso non significa che quella persona sia transfobica e solo perché ti sei offesa non significa che tu abbia ragione e fin qua fin qua condivisibile effettivamente non è che se tu ti sei offeso offesa significa che qualcuno ha necessariamente sbagliato in questo caso e qui sarà ragazzi l'ultima cosa con cui proprio sarò d'accordo in questo video però era giusto dire che almeno su questo concordo nel senso non è che se tu ti offendi automaticamente io ho sbagliato dipende dipende magari faccio ciao sai che oggi stai molto bene e ti offendi nel senso ok rispetto che ti sei offeso allora non ho fatto niente io ok ok e fin qui ecco questo questo pezzo poi di là è tutto in declino e vabbè recente parecchie persone mi hanno scritto su instagram seguitemi su instagram a proposito segnalandolo in dibattito se così vogliamo definirlo che c'è stato tra due tiktoker cioè andrea una grande call to action seguitemi su instagram punto maria sofia sull'uso della n word e sulla transfobia mi sono riguardato la live e fondamentalmente le due posizioni sono se sei bianco e usi la n word in qualsiasi caso sei razzista e se ti rifiuti di avere un rapporto con una persona trans anche se operata solo perché trans sei transfobico e dall'altro lato nessuno può impedirmi di dire una parola solo perché sono bianco e se non voglio avere un rapporto con una persona per qualsiasi motivo sono solo fatti i miei ovviamente sto semplificando ma il punto è questo per chi volesse approfondire linkerò in descrizione nella live ora personalmente non conoscevo né uno né l'altro quindi per avere un'idea più completa di queste persone mi sono informato un po' su entrambi e quello che mi ha colpito è stata maria sofia una ragazza che ha partecipato al collegio e in particolare gli ideali che porta avanti perché dall'impressione che mi ha fatto guardando la live e il suo profilo instagram mi rendo conto che l'ideologia di questa ragazza le battaglie che porta avanti e il modo in cui le porta avanti mi hanno ricordato molto quelle che hanno riguardato gli stati uniti fino a qualche anno fa la cosiddetta ondata di social justice warrior più o meno nel 2014 con tutte le varie compilation di persone triggerate senza nessun motivo e la risposta fisiologica a questa cosa è stata all'ondata di anti social justice warrior cioè quelle persone che a prescindere rifiutano qualsiasi tipo di iniziativa per la parità di genere contro il razzismo o l'omofobia anche se sono perfettamente razionali logiche moderate semplicemente per partito preso e alcune di queste cose le ho notate nel modo disposto di maria sofia in particolare in queste due tematiche cioè la nward è per te c'è l'acqua qui dentro ma no 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 non lo voglio con l'acqua dentro scusa ma non lo voglio con l'acqua dentro perché la risana con chi è fatta con l'acqua ma mi fa schifo quell'acqua che c'è lì dentro scusa ma potrò poter sciacquare il bicchiere prima di berci la risana dentro è sciacquato per questo ma qual era è l'acqua dello sciacquo non è vero no è l'acqua stantia che stava lì ma stagione ma stagione che è ma no il problema è l'occidente grazie grazie roachark grazie per i cinque mesi grazie poi le tazze questo non è un bicchiere no perché ma è così perché vabbè e non c'è il video ragazzi il video è non c'è lui che parla c'è ci manca l'altro uno è libero di esporsi nel modo che preferisce ma se il suo obiettivo è quello di fare attivismo non penso che sia efficace in particolare in questo caso le sue posizioni sono se sei bianco non puoi mai dire la parola con la n possiamo non necessariamente vedere un tizio che va in bicicletta a 1100 no 144p si può fare penso che si possa evitare no anche un po' fastidio alla vista guarda che editing che c'è che cura nel hai visto bello non importa il contesto le intenzioni e ciò che pensa l'altra persona e se ti rifiuti di stare con una persona trans operata solo perché scopri che è trans sei per forza transfobico queste sono posizioni estremamente divisive perché se una persona è ignorante in questi temi quindi il 90% di chi la segue visto che è diventata famosa al collegio ti sente dire che se non vuole avere un rapporto con una persona trans è per forza transfobico non può restare indifferente e farsi un'idea per conto proprio può andare solo in due modi o si trova d'accordo con te magari perché ti stima come persona e sposerà a pieno questo tuo ideale oppure non si troverà d'accordo con te e si allontanerà da questi temi facendossene un'idea sbagliata temi che in realtà sarebbero importanti se trattati con cognizione di causa l'attivismo è finalizzato a produrre un cambiamento sociale l'obiettivo deve essere far riflettere l'altra persona e le persone che stanno seguendo il dibattito per alla fine fargli cambiare idea non affibiare etichette come transfobico e razzista a una persona che la pensa diversamente da te o che non cambia idea perché ha un'opinione diversa questo oltre a essere sbagliato non funziona ragazzi se io attuo un comportamento razzista non volto al menare a offendere ok però tipo faccio un esempio esco con Federica Federica ha un'amica nera e io non voglio più uscire con loro perché c'è un'amica nera eh ragazzi ma potrò non volerci uscire ma saranno fatti i miei e Federica dice ma sei razzista no non puoi dirmi che sono razzista soltanto perché non vuoi cioè solo perché ha un'opinione diversa dalla tua eh ma se non vuoi uscire con noi perché c'è lei sto semplificando sto spiegando il concetto che sì ti si può dire che cosa sei in base alle tue azioni non è che si tratta di opinioni diverse punto eh non è che io ti dico che sei transfobico solo perché abbiamo opinioni diverse non è questo il punto non era neanche questo il punto di Maria Sofia comunque vabbè giusto senza nemmeno farsi inventare delle false remesse e smontarle domande chi invece non era d'accordo continuerà a non esserlo e avrà solo sviluppato Astio nei tuoi confronti poi sono d'accordo che continuare a urlare transfobia transfobia non porta a niente eh per carità di Dio però se hai un comportamento oggettivamente transfobico e non vuoi riconoscere che è transfobico perché se dico transfobico dici ah solo perché la pensi diversamente da me insomma e nei confronti delle cause che porti avanti per quanto riguarda Andrea boh fa video che parlano di scienza detto questo direi di passare alla ah ho capito Andrea fa video che parlano di scienza va bene ok 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 ragazzi ho capito non potrebbe essere prendendo il culo no sui commentazioni che sono state fatte in particolare di quello che riguarda la transfobia della n-word magari ne parlerò in un altro contesto eh ma se io non voglio andare con una donna trans sono i miei gusti le mie preferenze non puoi togliermi questa libertà imponendomi il tuo pensiero ma preferenze di cosa se abbiamo appurato che una donna trans è tale e quale una donna cis quale sarebbe la differenza che ti spingerebbe a favorire l'una all'altra se non la convinzione inconscia che la donna trans è ancora un uomo senza dubbio questa è una domanda interessante solo che le premesse sono sbagliate non abbiamo appurato che una donna trans e una donna cis sono identiche per il semplice fatto che non lo sono l'unica cosa che accomuna una donna trans e una donna cis è che tutte e due si identificano nel ruolo di genere di donna ma sono due persone diverse una donna cis e una femmina che si riconosce nel genere di donna immagino che se ci sono due persone una trans e una cis sono persone diverse e io direi che fin qui tutto torna cioè io e Federica siamo due persone diverse giusto? giusto no? quindi ci sta certo io non sono d'accordo effettivamente però neanche col discorso di Sofia cioè dire dopo che abbiamo appurato che una donna trans e una donna cis non c'è alcuna differenza io ripeto tratterei con le pinze sta cosa si può dire ci sono dei casi in cui a livello di percezione tu non riesci a distinguere una trans e una donna cis a livello di fenotipo a livello di fisico allora questo è più corretto dire in generale non c'è nessuna differenza è ovvio che è una cazzata è ovvio che non è così è ovvio che ci sono delle differenze tipo che una c'ha l'utero e l'altro no che una c'ha l'ovaio e l'altra no che una c'ha i cromosomi XX e l'altra no queste sono differenze quindi bisogna essere un po' più specifici ci sono delle differenze ovviamente ma non dovrebbero essere differenze che dovrebbero contare nei gusti poi poi ovvio che se c'è una donna trans che ha un basso passing lì si sta parlando di un'altra cosa si parla di effettivamente non puoi dire è così perché io la sto guardando cioè che cos'è una donna trans cioè nel senso se io prendo una persona nata maschio che ha 40 anni e inizia la terapia a 40 anni si può anche operare si può fare anche la vaginoplastica però purtroppo gli ormoni non avranno gli effetti che avrebbero avuto se l'avessero iniziare a 15 ok quindi ormai i tratti maschili sono usciti fuori gli ormoni non li faranno regredire più di tanto quindi per questo già dire non c'è nessuna differenza fa incazzare le persone perché ti dicono ma vaffanculo ma certo che c'è differenza il problema è che ci possono essere delle situazioni dove vi assicuro che voi non capireste mai che quella persona è trans neanche guardandola nuda neanche facendosi sesso ed è questo su cui però so situazioni non è una una costante ok questo andrebbe specificato perché se no si fa il 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 concetto di buonismo finto delle donne trans sono identiche alle donne cis non c'è nessunissima differenza le differenze ci stanno e lì può rientrare nei gusti eh si raga se io avessi iniziato la terapia a 40 anni cioè avrei avuto molta più difficoltà ad andare con ragazze lesbiche o uomini etero non perché loro sono ciao ciò mando scusa non perché loro sono transfobili semplicemente perché purtroppo in quel caso il mio aspetto riporterebbe più verso il maschile che il femminile poi dipende sempre però generalmente regà vi parlo generalmente eh qui però si parla il discorso che faceva Maria Sofia si parla se te piaceva una tizia e oddio questo è in realtà il discorso che facevo io non so se è il stesso discorso che faceva lei però se c'è una mantina tizia te piace la vedi nuda te piace c'è scopi te piace capisci in cazzo e poi ti dicono che è trans e non te piace più e mi dici no è questione di gusti ok stiamo parlando di quello e io meno di quello parlavo c'è un maschio che si riconosce nel genere donna condizione che prende il nome e conosce nel genere sentite qui quanto è suddolo il ruolo di genere e di donna ma sono due persone diverse una donna cis e una femmina che si riconosce nel genere di donna una donna trans invece è un maschio che si riconosce nel genere donna condizione che prende il nome di disforia di genere il sesso di un individuo non cambia nel momento in cui una persona si rende conto che il suo genere non coincida al sesso al genere che gli è stato assegnato alla nascita nella specie umana i sessi sono due maschio e femmina e il sesso di una persona è irrevocabilmente determinato su basi genetiche e non è possibile che un maschio diventi femmina e viceversa quello che può cambiare è il genere cioè come una persona si percepisce all'interno della società può identificarsi come uomo donna non binario all'imbarazzo della scelta dato che ogni giorno su tiktok viene inventato un nuovo genere ma qualunque sia la scelta che fa questo soggetto non potrà mai cambiare il suo sesso biologico pertanto se un maschio eterosessuale non è attratto da un maschio anche se quest'ultimo si identifica come donna non c'è nulla di sbagliato anzi quanto è subdola questa frase quanto è subdola questa frase quanto è subdola questa frase io vorrei concentrarmi su questo in particolare se io maschio etero non voglio andare con un maschio che si crede donna non c'è niente di male no il sesso biologico non si cambia con l'operazione ragazzi ma il punto è un altro il punto è un altro io vorrei dove sta dove stava quel furbacchione che c'era prima che faceva lui ha ragione lui ha ragione non devo argomentare io dovete argomentare voi chi era ve lo ricordate come si chiamava quel furbacchiotto di prima la ragazza trans si era spacciata per quel che non è una ragazza cis se io avessi saputo a priori che fosse una ragazza trans non mi avrebbe mai eccitato il fatto è un bias è un bias ammettilo il fatto che io mi sia eccitato con una bugia dimostra il fatto che a me non è mai piaciuta si parla sempre di attrazione sessuale quindi se dopo che mi dice la bugia che mi ha tenuto nascosto per qualche lecitissimo e arcano motivo arcanissimo proprio difficile da capire per quale motivo di tenuto nascosto a me il cazzo non mi si alza più è normale questi saranno solo due esempi se una persona mi chiama per fare una hole in the wall un porno con un buco dove metti il cazzo e tendenzialmente la ragazza se lo succhia ok e tu mi mostri una foto di una ragazza bellissima e mi dici che dietro c'è lei poi dopo che mi hai fatto il pompino e mi è piaciuto scopro che era un uomo tu mi rispondi sei un uomo sessuale represso e beh ragazzi era esattamente la stessa cosa questa è transfobia e a me non piace usare la parola transfobia tu stai paragonando anzi stai dicendo chiaramente trans uguale uomo tu stai dicendo tu psicopompo quello che stai dicendo te è trans uguale uomo quindi io ho il diritto di andare con gli uomini perché a me gli uomini non mi piacciono stai dicendo questo perché se mi paragoni una cosa del genere ok un glory hall dove ficchi il cazzo e qualcuno te lo succhia e ti dicono è una donna e poi è un uomo cioè stiamo scherzando raga stiamo scherzando e poi vi incazzate se vi dicono che i vostri discorsi sono transfobici ma lo sono ah spontaneo spontaneo ok lo sono è transfobico come concetto cioè se tu arrivi a scopare con una tizia tu dici si è spacciata per cis si era spacciata per quel che non è una ragazza cis però in che senso si è spacciata perché a te non ti ha detto niente quindi non è che lei ha fatto qualcosa in particolare a meno che tu non gli abbia chiesto e lei ti avesse detto no allora in quel caso si è spacciata per una ragazza cis perché non vorrei tornare sul discorso della diottavia ma omettere e mentire sono due cose diverse non può venire a dire che una ragazza si è spacciata per quando tu non ti sei accorto di niente ed è una cosa che se mi vieni a dire perdonatemi cioè non è che devi scoprire se una persona ha un tumore che non sei in grado di farlo perché non c'è la tac se mi dite che una donna cis non è uguale a una donna trans e io ti dico ok allora devi essere in grado anche di distinguerle no perché se non sono uguali e se il sesso biologico ha un'impronta importante sull'aspetto di una persona allora tu gran sapientone dovresti saperle distinguere se tu ci vai a letto come un broccolo non ti accorgi di un cazzo allora vuol dire che è vero che non c'è differenza a livello di quello che vedi quello che tocchi quello che senti quello che provi quindi ti dai a zappa sui piedi poi ripeto se si tirano fuori situazioni dove eh però la fertilità io voglio avere i figli poi di quello se ne può anche parlare e comunque be smonto pure là però il discorso che fa questa persona è veramente folle cioè questa questa puzza di puzza di transfobia proprio da una ma proprio non lo so tipo non lo so regà tipo dopo che 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 ho l'influenza intestinale vado a spruzzare la cacca in bagno cioè puzza proprio puzza proprio di transfobia ed è esattamente questo il problema le persone come questa persona che poi non vogliono accettare però che gli dici che sono transfobici non lo vogliono accettare darebbe fastidio perché è un bias io accetto che a te dà fastidio psicopompo io lo accetto io non ti obbligo a non provare quello che provi e non ti neanche colpevolizzo perché non sei tu no che dici oh senti quello che vorrei è che tu fosti abbastanza onesto da dire che è un tuo problema e che è un bias non un gusto è di questo è di questo che si parla tu puoi decidere fa il cazzo che ti pare ma se voi dite c'è differenza allora tu hai il fetisce per il cromosoma XX cioè che cos'è cioè dov'è che tu vuoi andare non capisco cioè ti fa schifo non ti piace ti allontani per quale motivo dimmi psico psicopompo dimmi cioè se io ripeto rifaccio il discorso delle melanzane se a me non piacciono le melanzane e ti dico non mi piacciono le melanzane non mi piacciono le melanzane mi fanno schifo le melanzane non mi piacciono le melanzane perché proprio le ho provate non mi piacciono mi fanno schifo vogliamo andare ancora oltre mi fanno schifo le lumache mi fanno schifo i ratti ok mi fanno schifo gli insetti tutto quello che ti pare perché magari le melanzane le hai provate e puoi dire che non ti piace no facciamo proprio una cosa che non hai mai provato come esempio magari andare con una trans quindi non l'hai mai provato e quindi esattamente come non hai mai mangiato gli insetti non hai mai mangiato i ratti e ti dicono ah ti piace questo piatto buonissimo squisito farei il bis e poi ti dicono era ratto era ratto carne di ratto e tu dici oh che schifo che schifo l'idea ma il piatto ti è piaciuto non è che quello che hai mangiato non ti è piaciuto più ti è piaciuto te lo sei mangiato hai fatto anche il bis solo che ha l'idea che ciò che hai mangiato mangiato allora ti faccio un esempio io se io mi mangio qualcosa ok fate conto che io so carnivora e mi fanno mangiare il gatto io non lo so lo mangio e poi dopo che mi dicono che era gatto impazzisco io non è che dico allora il gatto non è più buono il gatto è ancora buono e a me il sapore del gatto mi è piaciuto solo che al pensiero che io ho mangiato un gatto mi sento male perché io ho i gatti ok quindi io mi sento male mi uccido se scopro che mi hai fatto mangiare un gatto qui stiamo parlando però di moralità eh attenzione però vedi che non rientra nel gusto il gusto è io ho mangiato quel tipo di carne e non mi è piaciuta questo è il gusto invece un blocco mentale è a me piacciono tanto i gatti e non posso mangiarli ma non perché non sono buoni ma perché mi sento male al pensiero che è diverso dal gusto ed è quello in cui vi sto cercando di portare a questa conclusione in questo caso però c'entra la moralità togliamo la moralità e prendiamo semplicemente un bias come può essere che cazzo ne so gli insetti di cui per me magari non c'è niente di immorale mi fai mangiare qualcosa scopro che sono insetti che schifo fa schifo questa roba fa schifo e no ti è piaciuta da sei maniata se tu mi paragoni l'acqua di uno che ci ha sputato dentro è sempre una roba dispregiativa cioè lo capisci che tu stai paragonando l'andare con una trans in qualcosa di dispregiativo è se c'è sputo dentro è il pompino che mi ha fatto un uomo cioè è tutta roba dispregiativa e cazzo cioè si sente la puzza di qui di transfobia per lo stesso ragionamento io dovrei bere montagne di sputi siccome senza che lo sapessi hai sputato nella mia acqua scusami scusami tanto mi spieghi come fai a coniugare un tizio che ti scozza nell'acqua oppure nel cibo che mangerai che è uno scozzo cioè è un rifiuto ok è una secrezione di un essere umano che stai sputando in un piatto che anche dispregiativo ti sputo nella pietanza che mangi come fai a raccostare questa cosa all'andare con una trans come fai a paragonarmi le due cose perché già il paragone che mi tiri fuori fa capire tu di che idea sei riguardo questo non è un bel paragone non ti fa onore un paragone del genere stai paragonando un essere umano ha una secrezione di un essere umano e poi ti incazzi se ti chiamo transfobico perché c'è la la dittatura LGBT non si può più dire niente mi obbligo ad andare coi trans dai vi dirò di più la definizione di eterosessuale è un individuo che sessualmente si sente attratto esclusivamente dall'altro sesso quindi è perfettamente normale nello specifico nella live che è stata fatta si parlava di per esempio un uomo che era attratto da una donna trans senza sapere che fosse trans nel momento in cui viene a sapere che lei è trans interrompe la relazione non è smette di esserne attratto e a quanto pare questo sarebbe sbagliato ma no non si parla di sbagliato non si parla ma chi siamo bambini è giusto e sbagliato è cattivo e buono non si parla di sbagliato non è sbagliato non è sbagliato è semplicemente un cazzo di bias non è sbagliato scusami per iluvio scusami scusami ho saltato un po' di gente Rosha che mi aiuti a capire meglio il significato di transfobia fino allora pensavo che significasse fare violenza verso una persona transessuale è limitata la spiegazione allora si tratta fare violenza verbale o fisica o discriminazione cioè il termine transfobia così come omofobia così come xenofobia letteralmente vuol dire paura perché è fobia quindi paura infatti secondo me dovrebbero cambiarlo perché non è proprio fobia comunque il fatto che tu hai una discriminazione un pregiudizio verso quella persona cioè tipo io non esco con te perché c'hai un amico nero e io non ho niente contro i neri per carità però non ci voglio uscire non mi va di uscirci che come lo chiameresti questo razzismo eppure io non ho menato un nero non l'ho insultato non ho fatto violenza verbale o fisica però io non voglio uscire con lui perché è nero capito ed è razzismo tu lo chiameresti razzismo un comportamento razzista ecco fai la stessa cosa con transfobia la stessa cosa pediluvio questo del glory hall è un esempio che ha fatto crepaldi aia crepaldi ma che mi combini che mi combini ma ovviamente lui l'ha riportato ma ovviamente lui che l'ha riportato non l'ha capito infatti crepaldi diceva solo che c'è una componente mentale e non solo fisica sul discorso diciamo anche che fisicamente una trance è uguale crepaldi voleva dire appunto che se perdi recitazione una trance è dovuto ad una concezione mentale sì che è quello che sto dicendo io concezione mentale uguale bias allora analizziamo analizziamo ok analizziamo questo esempio stupido dello sputo ok analizziamo l'esempio stupido dello sputo perché io non mi berrei l'acqua dove ci hanno sputato dentro anche se io non mi accorgo che ci hanno sputato dentro ok perché qui non si parla che schifo altera necessariamente il sapore o le proprietà organolettiche mi fa schifo il concetto che qualcuno abbia espulso una secrezione in qualcosa che io devo bere quindi è un'espulsione di una secrezione e mi fa schifo e mi fa schifo il concetto di bermi le le cioè i fluidi di un'altra persona che cazzo cioè nel senso cioè io ce l'ho la motivazione ed è mi fa schifo che qualcuno sputi nella cosa dove mangio perché è una secrezione sua e tra l'altro mi potrebbe pure contagiare con qualcosa e comunque è una cosa cioè lo scozzo è una cosa viscida a prescindere caccia lo sputo è una cosa viscida a prescindere cioè mi avreste potuto mettere anche delle feci dentro però magari ben diluite non me ne accordo ma che vuol dire ma che discorso è ti dico che mi fa schifo perché sono feci mi fa schifo perché è un cazzo di scatarro invece la motivazione per cui ti fa schifo è che una danza qual è è che prima era un uomo allora è transfobia cioè se tu continui a dire che cioè qual è il il concetto e il baci con la lingua c'è un po' dei problemi no non è non è questo psico non è questo poi da una persona che non riesce neanche a riportare un esempio di crepaldi non so quanto tu possa essere veramente preso sul serio l'analogia con la transessualità dove sta io te l'ho spiegato perché mi fa schifo lo scozzo o il piscio o prendere una maglietta bella sudata e spremerla dentro te lo sto spiegando cos'è sono secrezioni di un essere umano ok che generalmente già di loro non sono belle da vedere non piacciono a nessuno non è questione di gusti non piacciono a nessuno è una cosa schifosa e ti sto dicendo il fatto del perché a te non piace più una trans qual è? dopo che hai scoperto che è trans qual è? ora ci arriviamo jeepsec mi fosete ora non più rispondi psicopompo dopo che mi hai paragonato uno scatarro direi che puoi anche evitare di fare la vittima grazie rispondi a sta domanda si sa ma lì non si prende il discorso degli uomini trans perché per gli uomini trans non c'è la possibilità di operarsi però se vogliamo proiettarci in un futuro e troviamo magari un'operazione fedele e esce fuori un pene funzionante come quello degli uomini cis potremmo fare lo stesso discorso anche con 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 gli uomini trans no 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 friends no friends non è che tu scopri che una persona ti piace poi scopri che quella persona non può fare figlia allora la persona non ti piace più magari non ci vuoi più portare avanti una relazione perché nel tuo intento era farci una famiglia ma non è che non ti piace più non è che non ti si rizza più dai friends dai torna con una nuova argomentazione un po' più solida dai grazie grazie la paura di essere inculati complimenti effettivamente una trans operata è una minaccia per il tuo culo hai ragione hai ragione complimenti molto profondo bravo tua madre dovrebbe essere fiera di te permesso quanto sia raro che in una relazione ci si renda conto solo dopo anni che il proprio partner è una persona trans per quanto l'operazione sia fatta bene è impossibile ottenere un risultato identico ma anche se fosse andata così accusare quella persona di transfobia è semplicemente folle una persona ha il diritto di rifiutarsi di avere un rapporto o di intraprendere una relazione per qualsiasi motivo non importa se parte un motivo valido oppure no non hai nessun diritto di farmi sentire sbagliato eh poverino non ti vuoi prendere le responsabilità di quello che fai povera vittima mannaggia 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 sei te la vittima la vittima sei te la vittima raga siete voi siete voi le vittime siete voi raga così come quello che ha urlato la dittatura LGBT e che noi siamo privilegiati e che poveri io non sono le persone quel tipo di persone che fa oh solo perché povero maschio bianco etero cis di solito non lo dico mai però se ti metti a dire tu non hai nessun diritto di farmi oh non hai nessun diritto e invece te lo prendi e te lo prendi e te lo porti a casa perché se una persona come te fa dei discorsi come eeeh psychopompo eeeh ce l'ho il diritto e come friends cambia streaming dammi retta non fidate va a finire male lascia non gliela puoi fare lascia perdere non c'è problema ce ne sono tanti altri contenuti meglio del mio su twitch fidate dammi retta vada un'altra parte comunque gradirei se queste persone che si sentono così tanto vittime di questa situazione venissero a parlarne a voce visto che comunque io ci metto la faccia eccetera eccetera se volete portare avanti le vostre argomentazioni in maniera sensata tipo quella del lo scozzo del glory hall fatelo su discord perché mi rompo un po' il cazzo a leggere i papiri che scrivete e a stare appresso alle vostre tempistiche può venire psicopompo psicopompo può venire su discord possiamo parlare su discord no non è una minaccia rega veramente mi trovo meglio avete visto ieri quando wiki è venuto su discord come siamo riusciti a parlare meglio si capiscono i toni si capisce l'intenzione capito senti la voce dell'altra persona è diverso cioè parlare per tizio per tizio che scrive in chat non favorisce un buon dialogo per favore per avere un dialogo proprio più soddisfacente un dibattito più soddisfacente vieni su discord non serve ovviamente la webcam perché non sono attratto da te l'attrazione fisica è causata da molti fattori anche mentali ed è perfettamente normale che un uomo etero smette di essere attratto da una donna trans nel momento in cui scopre che biologicamente è un maschio o che smette di essere attratto si viene a sapere che la vagina della sua partner è stata creata col dissemblamento del pene e dello scroto ed è il successivo riutilizzo dei componenti anatomici disassemblati per la vaginoplastica e anche se questa cosa ti offende non ci può fare niente ogni nostro tipo di preferenza sessuale può essere discriminatorio anzi lo è per definizione il fatto stesso di essere sul disco dice che mi hai soppresso e non posso parlare che vuol dire soppresso scusami che vuol dire soppresso no semplicemente sta in sala d'attesa in sala d'attesa non puoi parlare Jeffstack aspettare che ti sposto che vuol dire Sto aspettando che entra Psychopompo O se vuole anche recensore marchettaro Che mi sembra uno Bello sveglio qua La transobia È una cosa nuova Entra da oggi La transobia è la sfida della magia Raga ma scusate un attimo Vi vorreste convincere che Aono è stato cresciuta Da una donna che si spacciava per esempio Per mia sorella ma invece era mia madre E lo vengo a sapere da adulto È la stessa cosa che non venirlo a sapere Cioè ci sono cose che possono turbare Il legittimo mio padre No A mio parere A mio pare Solo per onestà Una persona che riesce a fare un esempio Un esempio Che sia Effettivamente un esempio Cioè un esempio concreto Si può Cioè se l'è in grado Se l'è in grado E fa una cosa del genere Chiedo eh Se siete Avete le capacità Di formulare un esempio concreto Che abbia un senso Si Luca Più volte di quante immagini Esatto Perché ti turba Saper È una domanda che ho fatto Ma che nessuno mi risponde Ma perché ti turba Eh glory hall Ma perché ti turba Eh lo scozzo nel bicchiere A me eccitano I trans Per l'idea Che assomigliano A una donna Se quella stessa Se quella stessa persona L'avrei vista Prima Di fare Il cambiamento Non mi avrebbe mai eccitato Ora spiegatemi Cosa c'è di transfobico No Ti assicuro che qui il problema Non è la transfobia Recensore Ti assicuro che il tuo ultimo problema È la transfobia Una mano sulla Ti poggio Ma una mano sulla spalla Vai tranquillo Hai altri problemi Prima Allora Chi è Barbarus H Axel Torniamo alle Venanzane Ah Cioè Allora Ragazzi Vai Vai Aspetta Questo tipico esempio Non so che cosa Ah Tipico esempio Che leggo Sì Se tu sgozzi qualcuno E scopro che dopo due anni È ovvio che non voglio stare con te Stessa cosa per le persone trans Ah Barbus Sede Ok È un esempio Che non c'entra un cazzo Però friends Io te l'ho detto Fatta a fangiro Che nel caso Che stai qua E Psychopompo Ragazzi Non ce la fa È uguale Regà È uguale Cioè nel senso Mettersi con me O mettersi con un pluriumicida È la stessa cosa Cioè comunque Giusto no? Io non ci vedo differenze Sì 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 Prima lo sputo Poi gli assassini Poi Vedo che sai Vedo che sai insultare Ma argomentare Zero O ti ho insultato? O Ti ho insultato Mi dispiace Ti assicuro Che non era assolutamente Mia intenzione Ti chiedo Venia Chiedo Venia Se ti ho offeso Ma non era assolutamente Mia intenzione Ho semplicemente detto Che forse Il tuo ultimo problema È la transfobia Non vedo insulti Non vedo offese Io sto aspettando Psychopompo Avrei inteso Intendevo che era proprio Un esempio No 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 Io ho capito Andeul L'ho capito Alla seconda volta Che l'ho letto Quindi quando l'ho letto Bene e l'ho letto All'alta voce Ho capito che Classica frase Che leggo Ho capito Che non è un tuo pensiero Se prima Carlo Conti Commette crimini In guerra In Crimea Io lo vengo a sapere Dopo 5 anni È la stessa cosa Che le persone trans Al lavoro è arrivata Una ragazza nuova Ci ho parlato Amichevolmente Tranquillamente Mi hanno fatto Outing Lei ha risposto Ah ma sembravi proprio Uno A te hanno fatto Outing Ma tu sei Scusami Dude F2M Sì Sì Leggendo Sì Sei un F2M Sembravi proprio Un uomo E mi ha dato Il femminile E ha iniziato A essere A disagio Non è solo Scopare Ma proprio Il fatto di sapere Che una persona trans Viene trattata diversamente E questo bisogna capire Come turba queste persone Guarda è successo anche a me Mi è successo Guarda ti dico questa cosa Allucinante Stavo dall'endocrinologo Un endocrinologo specializzato In persone trans Da 30 anni Quindi insomma Eh Una persona abbastanza esperta E Arrivo lì E mi fa delle domande Mi chiedo se ero mai Rimasta gravida E io gli faccio Io pensavo che lui Avesse capito subito Che io ero trans No è una persona che 30 anni Che lavora qui trans Te prenoto una visita Vado là Quanto meno Mi aspettavo Che tu capissi Che io fossi trans Non l'hai capito Va bene Ok Damo il merito Al mio passing Ok No no Guardi Non sono rimasta gravida Ah non vuole figli? No Che non Cioè Anche volendo Non posso Ah è sterile Sono trans Ah Da lì? 8 volte su 10 Mi ha dato il maschile Mi è successo anche con altre persone Tizi A cui piacevano A cui piacevo Scusate Che Mi hanno Una volta che hanno scoperto Che ero trans Hanno cominciato a darmi nel maschile Ma non perché Lo facevano apposta Cioè Per me le vittime In quel momento Erano davvero loro Cioè Andavano completamente in tilt Mi hanno fatto anche pena Perché veramente Se tu stai Impazzisci così tanto Mi conosce E poi E questo è un bias E così come succede Nei rapporti di amicizia O nei rapporti interpersonali E così Succede la stessa cosa Nella relazione Non sono gusti Ma se mi impressiona Il fatto che fosse un uomo Come fa a essere definita Transfobia Esattamente Per il fatto che Ti impressiona Fosse un uomo Cioè Proprio È proprio quello Il punto Che poi in realtà Uomo è anche sbagliato Perché non Si parla proprio di questo N Aveva una Cinquantina Sessantina Allora Al massimo Se ti impressiona Il fatto Che prima Era un ragazzo Dai Buttiamola così Al limite In maniera Stiracchiata Potremmo parlare Di omofobia No 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 Omofobia No 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 Coffi No Hai ripartito male Sei andato ancora peggio No Perché Coffi Perché Mi fate questo Perché Ma non vale neanche questo Dato che È la mia Eterosessualità A discriminare Certo Non di certo Un mio potenziale Astio O paura Per l'omosessualità Pure essere Al limite Io non ce la posso fare Cioè Non è possibile Non Stiamo ancora troppo indietro Io non ce la faccio Alla base della transfobia Non c'è l'omofobia Non lo so Non credo Non è una regola Anch'io Ho anch'io un esempio Nasco brutta Bruttissima Per i canoni statici del periodo Mi rifaccio completamente E elimino la me Precedente Precedente me Il mio ragazzo dopo qualche mese Lo scopre Mi lascia Beh è un po' insensato o no Tralasciando la storia della fiducia Perché quella non c'entra Sì Yoko Eh l'ho già detta io questa cosa Cioè grazie per averla detta Era la stessa cosa che ho detto io Il problema ragazzi Qui c'è una cosa di fondo Cioè loro si sentono tutelati A dire questa cosa Perché È la loro eterosessualità Che parla Ma non riescono Io sono un po' stanca Di parlare sempre Le stesse cose Cioè Vabbè Brabus Lì penso che Avrebbe confuso un po' Chiunque Te dico la verità Sì Ma non è che se Ha un uomo etero Gli fa schifo scopacco Un uomo È omofobo E allora non può essere neanche transfobico No Perché è diverso Potete venire sul disco Regà Io ne la faccio più a leggere Cioè non ve leggo Vado avanti col video Faccio le recensioni del video Non me in culo più Se non viene Io ve lo giuro Se non venite Su discord Non vi leggo più Basta A voi persone Che mi scrivete papiri Dove io devo argomentare Basta Non ce la faccio No Non ci mette la mano Sul favore No Loller No Ancora non abbiamo parlato Ma se una donna Non mi piace La discriminazione Non ce la fanno Non ce la fanno Non ce la fanno E non ce la faccio io Non ce la sto a fare Jepsec Un attimo Non siate timidi ragazzi Per favore Cioè Per favore Cioè Se vi interessa Portare avanti Le vostre argomentazioni Venite su discord Eh Etero gay Stai escludendo Un intero sesso Ho anche solo fatto Di escludere le persone In carne Lo è Ma parlare di grassofobia Come la ragazza di quel video È privo di ogni senso Se domani una ragazza Mi rifiuta Non le chiedo Di scrivere un tema Di 10 pagine Per spiegarmi i motivi Del suo rifiuto Per poi analizzarlo Scoprire che non le piace Una certa caratteristica Del mio corpo Per poi accusarla Di avere qualche tipo Di fobia Perché non sono d'accordo Con lei No Ognuno ai suoi gusti E non siamo nessuno Per poterli giudicare Io non mi permetterei mai Di andare da una ragazza lesbica A pretendere che lei Si attratta da me Se lo facesse È probabile che il prossimo video Lo starei registrando Da una cella Per lo stesso motivo Una E anche qui Questa è un'altra cosa Che mi hanno tirato fuori Quindi Se io parlo Una lesbica E mi dichiaro Quella lesbica Mi rifiuta È eterofobica E di nuovo Regà Non ne usciamo Trans uguale uomo Cioè È questo Cioè Alla base Ci sta il fatto Che vedete Una trans come un uomo Punto Basta Non c'è Mi sono rotta il cazzo Perché non c'è Nient'altro da dire Più parlate Più esce fuori Questa cosa Ed è esattamente Questo è il punto Per voi Trans uguale uomo Questi video Queste argomentazioni Ne sono La prova Se mi fate L'esempio Che mi ha fatto Questo tizio E mi viene a dire Se io dico Una lesbica Trans uguale uomo Fine Basta Cioè Mando su Discord Si entra per dire Cose inerenti Al tema Per far compagnia Così Grazie Non è che mi sento sola Vorrei Poter concludere Questa cosa Allora Io non so più Come dirvelo In cingalese Ve lo devo dire In cingalese Ve lo devo dire In cingalese Ma anche se fosse Qual è il problema Trans uguale uomo E discriminazione Sì Sì Lo è Lo è E lo vedete Che alla base C'è questo E anche se fosse Qual è il problema Eccolo Qual è il problema Trans uguale uomo Qual è il problema E discriminazione Regà è questo Alla base C'è questo Non è che se non c'è Violenza verbale O fisica Non è discriminazione Se io non voglio Uscire coi neri E non li sto Ne picchiando Ne insultando Sono comunque Discriminatoria Vabbè Franz Tu sei veramente Stupido Comunque Mi dispiace Io non mi voglio Insultare Però veramente È veramente Difficile Mantenere La calma Con individui Del genere È veramente Difficile Io sfido Chiunque Poi tra l'altro A trattare Quest'argomento Più volte E sentire Persone Come Franz Io spero Che siano Dei troll Che sappiano Chi sono io E vengono Qui soltanto Per triggerarmi Io voglio Sperare E che io Ci casco Voglio Sperare Questo Blazer Lì è Diverso Perché Lì Dipende Perché Non ci vuoi Scopare Perché Non ci vuoi Scopare Blaser Blazer Come Ok Quindi Non ti piace La pelle scura A livello Di gusto Giusto Blazer Cioè Generalmente La pelle scura Non rientra Nei tuoi canoni Di gusto Non ti piace Proprio a livello di gusto A livello di Roba Giusto Stai dicendo Stai dicendo Ok Non è discriminazione Perché è una cosa Che vedi Ce l'hai davanti No L'ho capito Blazer L'ho capito Cioè A me Ad esempio La pelle scura Non piace Ma non piacciono Neanche le persone Tendenzialmente Molto abbronzate Eccetera Ho la tendenza Ad essere attratta Dalla pelle Molto bianca Tendenza E poi Non è che io vivo Di questo Però Ho la tendenza Ad essere attratta Dalla pelle Molto bianca Dai capelli chiari Dagli occhi chiari Questo è il mio No Il mio coso Dove Io tendenzialmente Sono attratta Da determinate Peculiarità Del fisico Un certo body shape Un certo tipo di mani Ok Questa roba qui Tendenzialmente Quindi Magari Becco Una ragazza nera Trovo che sia Molto bella Esteticamente Però non mi tira Perché Perché Non ha quelle caratteristiche Che a me piacciono Ma non è perché È nera Nel senso Che è nera E quindi C'è tutto il preconcetto No Semplicemente Quello che vedo Quello che vedo Che sto vedendo In quel momento Che mi arriva Immediatamente Non c'è bisogno Che quella persona Mi dà delle spiegazioni Mi dice cose Che io non conoscevo Non sapevo Allora dopo che ho saputo No Quello che vedo Che rientra nei miei gusti Non mi piace Oppure quello che vedo Mi piace Ok Faccio un esempio Se esistesse un modo Per Cambiare il colore Della pelle E io Trovassi una persona Con la pelle chiara Molto chiara Mi piace Ci mi metto insieme E poi quella persona Mi dice Una volta ero nera E a me non mi piace più Allora in quel caso Scriviamo In quel caso C'è Probabilmente Del razzismo dietro È di questo Di cui si parla Ok Se io dico Oh no Oddio Mi ha ingannata Mi ha ingannata Oddio Pensavo che eri bianca Invece Prima eri nera E ti sei semplicemente Sbiancata la pelle Si parla di questo Questo è il punto È lì dietro E poi non posso Venire a dire Non mi sembra Corretto Essere giudicata Soltanto Perché io non voglio Stare con te Sigo Ti ho detto Che sono Vieni su Discord Non ti cago proprio Mi dispiace Parla al vento Posso dire una cosa Le persone bianche Sono tutte uguali No Le persone cisgender Nemmeno Quindi perché si parla di Si parla di Minoranze Se ne parla Come se si parlassi Di cloni Perché è ovvio Perché se tu paragoni Le trans Agli uomini Se per te le trans Sono gli uomini Gli uomini a te Non piacciono E questo è sicuro Perché se sei etero Gli uomini Tendenzialmente Non ti piacciono E quindi le trans Non ti piacciono Perché trans Uomo Fine Basta Ok E se invece Dicessi Che non voglio Scopare Con un Cingalese Qualsiasi Del mondo Per i miei Problemi A caso Sono una razzista Anche se però Ho piacere Nell'uscirci insieme Non ho capito Che vuol dire Scusami Non vuoi scopare Con un cingalese Qualsiasi Del mondo A caso Non ho capito È moralità Cold Cold mess Si parla di moralità Si parla di morale Si parla di rapporto Incestuoso Stai paragonando All'andare con una trans E con un incesto E comunque Non c'è cosa Più divina Che scoparsi La cugina Qui Raga Qui Veramente Ma l'incesto È amorale Beh Per la Per la Per la società Si L'incesto È amorale Tendenzialmente Si Un figlio Che si scopa La madre È abbastanza Amorale Tra l'altro Poi È anche Rafforzato Dal fatto Che i figli Che nascono Dei rapporti Incestuosi Più sono parenti Stretti Più c'è probabilità Che il figlio Nasca a storpio Immorale Si Si Immorale Immorale Amorale È Una mia amica Ma molto simpatico Ve la presento Immorale Immorale Di tutto Regà Di tutto Si stanno Inventati Tutto Cioè tu vedi Proprio Il rumore Delle unghie Sugli specchi Proprio Cioè Ti senti proprio Sono felice Di vederti Per la prima volta In live Da dove vieni CRXJK Posso venire Su Discord Aspetta Io non riesco A capire Queste cose Quando Posso venire Su Discord Per rispondere A Psicopompo Sì Vorrei che venisse Anche Psicopompo Il problema Che mi viene Ho detto Più siete Parenti Stretti Più c'è Possibilità Che un figlio Nasca A storpio E comunque Ho detto Possibilità Non ho detto Vabbè Dai io ne la faccio Stasera Veramente Non ne la posso Fa Cioè Sono tanti troll Per forza Sì Sì Finiamo il video Una donna trans Non può pretendere Come mai Però sia attratto Da lei E non importa Per quale motivo Non lo è In quel caso Specifico però Più che concentrarsi Sull'uomo Bisognerebbe parlare Del ruolo Che ha avuto La persona trans Nell'esempio Viene fatto passare Come se fosse ok Avere dei rapporti Con una persona Senza dichiarare Di essere trans Questo non è ok Se una donna trans Volontariamente omette Di essere transgender Per ottenere un consenso Consapevole Del fatto Che il consenso Sarebbe venuto a mancare Se l'uomo fosse stato A conoscenza Del suo sesso No 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 Non è perché Se non siete d'accordo Siete troll Sono le argomentazioni vostre Che sono imbarazzanti Basta dire che Una persona Vi insulta O vi dà dei troll Soltanto perché Non siete d'accordo Con loro Voi state parlando Da mezz'ora E quello che dite È imbarazzante Ed è così imbarazzante Che mi viene più da pensare Che tu sia un troll Piuttosto che tu Davvero Abbi un cervello Così piccolo Da sparare Ste stronzate Mi viene Mi vengono i brividi La mia argomentazione Vuoi sentire La mia argomentazione Cosa che ho argomentato Fino adesso Vuoi sentire La mia argomentazione Di che cosa esattamente Dimmi il punto Dove vuoi sentire La argomentazione Vai dimmi Vai Blazer Grazie a tutti i social Guarda come inizio Con questo video Mamma mia regà Ha rotto le palle Sta storia Siamo d'accordo Io ne la faccio più a parlare Ne ho parlato Previamente su tutti i social Sono 4 anni Che parlo di questa cosa Ma però È uscire fuori Questa diatriba Tra Andrea e Maria Sofia Il mondo che ne parla Ma il diritto Le fa come cazzo Dove pare Sì Punto Immaginate regà La dittatura tra I propri bias A parte che vengono Poi messe parole in bocca Qui ci sono Tutte le argomentazioni Di cui avete bisogno Ok Ci ho fatto 12 minuti di video Vuole che continuo a parlare Di cose Mi distrago Perché se in chat E scrivere strozzate Smetto di dare Importanza al video Cosa di estremamente Sbagliato moralmente Non può pretendere Che un uomo etero Sia attratto da lei E non importa Per quale motivo Non lo è In quel caso specifico Però Più che concentrarsi Sull'uomo Bisognerebbe parlare Del ruolo Che ha avuto la persona trans Nell'esempio Viene fatto passare Come se fosse ok Avere dei rapporti Con una persona Senza dichiarare Di essere trans Questo non è ok Se una donna trans Volontariamente omette Di essere transgender Per ottenere un consenso Consapevole del fatto Che il consenso Sarebbe venuto a mancare Se l'uomo fosse stato A conoscenza Del suo sesso biologico Non solo sta facendo Qualcosa di estremamente Sbagliato moralmente Ma dovrebbe essere Perseguibile penalmente Per violenza sessuale In Inghilterra Ci sono già stati Dei precedenti In cui delle persone trans Sono state denunciate E condannate Quando i loro partner Hanno scoperto Che hanno mentito Sul loro sesso biologico In un periodo storico Come questo Dove Per fortuna Si parla sempre più spesso Di quanto il consenso Sia fondamentale In cui ci sono articoli Femministi In cui si scrive Che se un'omomente Sulla propria situazione Economica O sulla sua abitazione Dovrebbe essere perseguibile Penalmente Trovo delirante Che ci siano persone Convinte Che non solo Sia normale mentire Sul proprio sesso Per ottenere Un falso consenso Ma che se l'altra persona Una volta scoperto Vuole chiudere i rapporti Deve sentirsi in colpa E venire accusata Di essere transfobica Anche perché tu ti innamori Della persona nel presente Non nel suo passato In special modo Se questo Non è una cosa Che dipende da lei Altrimenti Non dovremmo più Andare a letto con nessuno Frenati dal pensiero Che un passato Erano dei bambini Da cui Auspicabilmente Non siamo attratti Un bambino È un individuo umano Con un'età compresa Tra la nascita E l'inizio Della fanciullezza Un adulto È una persona Che ha raggiunto Il pieno sviluppo Fisico E psichico Al contrario Il sesso biologico Come abbiamo appurato Non è qualcosa Che cambia nel tempo Per questo È perfettamente normale Che un uomo etero Abbia un rapporto Con una donna adulta Nonostante in passato Fosse stata una bambina Come è normale Che un uomo etero Possa rifiutarsi Di avere un rapporto Con una donna trans Perché il sesso Di quella persona Era Ed è tuttora Maschile Se io non sono attratto Da un altro maschio Nel momento In cui quella persona Mi dice Che si identifica Come donna Non cambia il fatto Che io non ne sono attratto Noi siamo attratti Da come una persona Ci appare Non per come quella persona Si auto percepisce Se si sta parlando Con una persona Che sostiene Che le donne trans E le donne cisgender Sono assolutamente identiche E non c'è nessun tipo Di differenza tra le due Basta fargli una domanda Dammi una definizione Di donna Che non sia autoreferenziale E con autoreferenziale Intendo che Sono donna Perché mi sento donna Non significa nulla Ti senti cosa? Cosa vuol dire? È un circolo vizioso Che non porta nulla Diccelo te Che cosa significa Essere donna Tu in ieri Dai Diccelo te Che cosa significa Essere donna Perché quando faccio Sto domando Non mi sa rispondere nessuno Chi è una donna? Cos'è una donna? La definizione di donna E dei parametri Che mi permettano Di distinguere un uomo Da una donna Chi sostiene questa ideologia Cioè che una donna trans E una donna cis Sono tale e quale Non può rispondere A questa domanda Per esempio si è fatto Che non appena elenca Anche solo una caratteristica Che le donne hanno E gli uomini no Però la loro stessa definizione Sono transfobici Perché per forza di cose Ci sarà almeno una persona Che si identifica come donna Ma che non presenta Quella particolare caratteristica E come direbbero loro Stanno invalidando La sua identità Se guardiamo le definizioni Invece È abbastanza semplice Descrivere un uomo O una donna A meno che una persona Non soffra di una rara Anomalia genetica Come il disturbo Dello sviluppo sessuale Ma il fatto che esistano Anomalie genetiche Non cambia il fatto Che nella specie umane Sessi siano due E anche l'intersessualità È una condizione Tra due situazioni bimodali Ben distinte Cioè maschi e femmine Secondo la definizione Del dizionario Treccani Ma anche dei dizionari Di lingua inglese Nella specie umana Una donna È un individuo Di sesso femminile Per sapere il sesso Di una persona È sufficiente guardare I cromosomi di una persona L'apparato genitale Esistono differenze neurologiche Differenze nella muscolatura Io vorrei effettivamente Evitare Di continuare a sentire Questa roba Perché Però c'era chi voleva Che io facessi Una recensione Cioè Che rispondessi A questo video Ma in realtà Ho già risposto Con questo video Senza averlo visto Tra l'altro Però io sento Tutte queste persone Che sono brave a parlare Che stanno qui Ma fosse venuto Ah no Sarei venuti sul discord Eh no però Chi cazzo è Eren Jaeger Ancora sto cazzo Di Eren Jaeger Chi è Ma io l'ho già visto Vito L'ho già visto Mi sto Mi fa male Continuare a riguardarlo Chi è Io voglio sapere In questa chat Chi cazzo è Eren Jaeger No non sei tu Psicopompo Sicuramente Questo lo so Da Oh regà Seriamente Chi è Eren Jaeger Ok Mattia Massaro Chi è Mattia Massaro Ah è sempre Lami Ok Che Mattia Massaro Chi è Rorschach C'è qualcuno Che non è d'accordo Con quello che dico Perché è Con lui Che vorrei parlare Non voglio parlare Con persone Che mi danno ragione Mi serve a niente Mi servono persone Che Vogliono dire il contrario Perché così Poi posso argomentare Come sto facendo Quindi Se venire A darmi ragione A darmi manforte Non mi serve Non mi serve Che mi date ragione Grazie Non è che ti devo Fare entrare Sei tu che devi entrare Pizzeria Psicopompo Vieni su discord Oppure Non ti rispondo Ma tanto non viene Psicopompo Che vuol dire L'argomento Da trattare Tutto quello Di che abbiamo parlato Fino adesso Tutte le cazzare Che avete detto Fino adesso Il fatto che Andare con una trans Se non ci vado Non è transfobia Il paragone Del Ah Se ci sei andato Vuol dire che ti piace Poi l'hai scoperto Dopo E' come dire Sputo in un bicchiere E poi io bevo l'acqua L'acqua mi è piaciuta Però poi dopo che so Che qualcuno ci ha sputato dentro Non mi è piaciuto Tutte queste stronzate qui Queste cose qui XY Dressed Comunque si Si Cioè non mi dire Che argomento Dobbiamo trattare Cioè ne stiamo parlando Da un'ora Cioè l'avete vista La live O siete entrati In questo momento Metterevi in sala d'attesa Sei entrato 15 minuti fa Non so chi sei Qui però su Twitch Quindi non so come Come farti entrare Comunque L'argomento è Le cose Le cose Trattate Vabbè Psicopompo viene bannato Perché mi ha rotto il cazzo Poi quando comincerà A dire la verità Sulla sua identità Poi ne parleremo Eh L'argomento Tra l'altro Vabbè Non ho aggiornato Andrà così Intanto vengono su Discord Ma non vengono Li ho accettati Su Discord Però non entrano Nella sala d'attesa No i vocali Non ci sono Perché non sono in grado Stasera di reggere Anche i vocali Qui vedo che sono entrati Dimarwan Kimi Ecco E nessuno si mette in sala d'attesa Ah ok Axus Quindi non c'è nessuno Che è entrato Che non è d'accordo con me E vuole Controbattere Vabbè Perfetto Queste sono le mie argomentazioni Nessuno ha detto tipo Non mi puoi costringere a Ma chi Io no sicuro Penso manco Maria Sofia Immaginate regà La vittatura trans Dove la gente le costringe Andrà Che persone trans Perché se no Te fucilano Ma di che Ma no Ma fate come cazzo Ve pare Ovviamente Partiamo proprio da questo Presupposto Fate come cazzo Ve pare E avete il diritto Di fare come cazzo Ve pare Sì Punto Quindi non tirate fuori Quella cosa Ma sono cazzi miei Posso Sì Potete fare quello Che ve pare Bisogna anche prendersi Le responsabilità Delle proprie azioni Quindi Nessuno ti dice Che se non riesci Andare con una persona trans È un pezzo di merda Da esiliare Ok No Semplicemente Prendiamo le ragazze trans Operate Perché quelle non operate Vabbè se già abbiamo difficoltà A quelle operate Figuriamoci Quindi Leviamo le persone trans Non operate Purtroppo bisogna fare Una gerarchia Io rientro nelle persone trans Non operate Quindi Ci butto pure io in mezzo Io persona Becco una ragazza Mi piace Mi piace la voce Mi piacciono i suoi modi Mi piace È simpatica È bella Blablabla Ci vado in fissa Mi piace Ci esco E Poi Allora Non è che deve essere Per forza Un appuntamento Dove lei ti dice una cazzata Semplicemente Esci Va a una festa La conosci Giustamente Lei dice Ciao sono Graziana E sono trans No Non ti sei in cula proprio Quindi ti dice Ciao sono Graziana Piacere Blablabla Magari ti dice Cosa studia Ok Ti piace Ci vai in fissa Non ci dormi la notte E cazzo ne so Poi vai avanti Magari Gli metti qualche like ai social Magari la sniper Ti capito Fa lì Fa un po' il piacione E poi dopo Scopri che è trans Perché magari ne parli con qualcuno Oppure per in post suo Quello che ti pare Quindi non si tratta neanche De Mi hai ingannato Dì prima Poi ci arriviamo a quella cosa lì Intanto Mettiamo al presupposto che questa cosa Non è neanche successa Perché hai fatto tutto Bene Scopri che è trans Non ti piace più Ok Però Se poi dici Non mi piace più Perché sono gusti E allora Lì fa incazzare le persone Perché è lì che le persone Si incazzano Perché le sta prendendo in giro Non è questione di gusti Non si può paragonare Non mi vai ad andare con le trans Così come Le donne Ricce Le more Le bionde Le rosse No No perché Sono tutte diverse Cioè non è una categoria Come i capelli neri Che tra l'altro vedi I capelli ricci Che vedi Gli occhi La pelle Che è una cosa che arriva subito No Vedi Pum Pelle Occhi Naso Che cazzo ne so Qualsiasi cosa È una cosa che Ti arriva subito Quindi Non può rientrare nei gusti Può rientrare magari Nella stima Che poi quella persona Perché giustamente dicono Eh ho capito Però se quella persona È una stupratrice È una killer A me non mi piace più Certo Ma lì si parla di moralità Qui dove sta la moralità Cioè non è che Una persona ha fatto qualcosa di male E ti fa schifo Ma qui allora Sta dicendo che l'essere trans È qualcosa di male Cioè sta mettendo la moralità Nell'essere trans Raga è in bias Fine Devi essere fucilato per questo No Sei un pezzo di merda No Però bisogna riconoscerlo Perché magari poi Ti può anche fare comodo nel tempo Riuscire a riconoscere E poi sei onesto intellettualmente Guarda Semplicemente io effettivamente Non riesco a vedere Donne trans Come donne Oppure magari sì Però quando ci do andando a letto No Oh Che c'è Nel senso Ok Però riconoscilo Che è questo Che è un problema tuo Non dire le donne trans Non sono donne Ma è un problema mio Sono io che magari Non riesco a andarci E riconosci che non è Una questione di gusto Perché non si parla di gusti Puoi dire quello che vi pare Raga Non è un gusto I gusti sono altri Perché se a te ti piaceva Vuol dire che il gusto Ci rientrava Se te piace più dopo che hai scoperto Un'informazione che non riguarda Non c'entra niente con la moralità Non è un gusto È un bias Cioè è proprio È proprio il concetto È proprio l'emblema del bias Esattamente questo E poi basta Poi riconosci che un bias Non ce vai I cazzi Va bene Ma non dì che è un gusto Anche perché Pi per culo le persone No non mi piace perché Che perché Te piacevo Non ti piaccio più Eh non mi piace No Non riesco ad andare con te Perché sto a disagio io Fine Basta E così si chiuderebbero un sacco di cose Rispondere Ma sono cazzi miei Ma sono cazzi miei Ma sono cazzi miei È una cosa stupida Soprattutto poi Da persone che dovrebbero essere No vengono seguite Per essere dei Tutologi Ok Io non riesco a vedere Donne trans come donne vere Sarò bigotto E tra 50 anni Non esisterà gente Che la pensa come me Oh Yes Yes Esatto È di questo che si parla Pizzeria Hai centrato il punto Ed è importante Riconoscerlo Capisci Cioè se tu dici Per me le donne Non trans Non sono vere Donne E quindi non riesco a andarci Perché per me non sono donne Hai chiuso la conversazione Capisci Hai chiuso Non c'è più bisogno Che noi parliamo di questa cosa Perché tu Non stai dicendo Eh sono gusti No tu stai dicendo Per me le donne trans Non sono donne E quindi non riesco ad andarci Perché per me non sono donne Non Non no no Io non ci vado Perché non mi piacciono A livello di gusto Si parla di questo E guarda Io ti rispetto anche Perché io non posso Fartene una colpa No Non è colpa tua Magari Sei stato influenzato Da diversi fattori esterni Dove sei cresciuto Come Chi hai frequentato Non te ne faccio una colpa Hai una visione ottusa Eh Ok Però rispetto il fatto Che tu lo riconosci E non ti poni Dietro Scuse Non ti metti davanti Delle scuse che fai No perché no Dici io sono ottuso E basta Sai quanti limiti C'ho io E quanto gli dico Senti io Sta cosa mi dispiace Non la riesco a capire È un problema mio Mi rendo conto che Sono limitata È un problema mio Oh basta Fine Ci vuole tanto No È però se sputi nel bicchiere È però se sgozzi una persona È però mi cugina Mi madre Se te scopi Mi zio col pelo nel culo Cioè Guarda le peggio stronzate Che si tirano fuori Quando basterebbe di Sono una persona Chiusa le mente Lo so Jeffsack Con Begbie Lo so benissimo Lo so L'ho tirata fuori Più volte Quella scena Super informati Che diffondono La verità Con tantissime nozioni Pseudo Scientific Capito Non lo puoi Non puoi crocifiggere Una persona del genere Cioè Non la puoi crocifiggere Cioè se Io l'ho detto Se L'ho detto nel video Cioè se tu non riesci A vedermi Come una donna Io non ti posso Ammazzare Non ti posso ammazzare Non ti posso crocifiggere Non ti posso Ti posso dire Sei transfobico Ti posso dire C'hai dei bias Ti posso dire Sei un bigotto Ma di certo Non Non ti posso Dire nient'altro Non ti posso fare nulla L'ho capito L'ho capito Pizzeria Ti ho capito Non penso che tu sia una persona maleducata O cattiva Che esci con una persona E dici Tu non per me Non sei una vera donna Ho capito Tu Nella tua testa Pensi Chi è mother Chi è mother Grazie Grazie mamma Grazie Ti ho perfettamente capito Pizzeria E ti sto dicendo Ok Lo riesco a capire Anche io ho avuto Dei bias Anche io ho avuto Delle chiusure mentali Magari su qualche cosa Ce l'ho ancora Ciao Jack Ok L'ho capito Ti ho capito Non penso che tu vai in giro Insulti le persone Vai a screditare le donne trans È un tuo pensiero Te lo tieni per te Però Se ci devi uscire E se ci devi andare a letto Se ci devi scopare Tu a quel punto Non riesci a farlo Giusto? Perché per te Non sono vere donne Giusto? Qual è la differenza Delle gusti E la chiusura mentale Beh Cioè È grave che tu non riesci A capire questa cosa È abbastanza grave Che tu non riesci a capire La differenza Tra una chiusura mentale E un gusto Gusto Quello che ti arriva Immediatamente Sì L'acqua Anzi Una deliziosa Ecco Facciamo così Il caffè Fatto Quei chicchi Cagati Di un Di un lemore Esiste E molto E molto Lo trovo Caffè Defecato Viene Che Che praticamente Che praticamente Fanno ingerire Dei chicchi di caffè Li fanno Semi digerire E poi Li fanno Cagare Lo zibetto Ok Lo fanno Li fanno cagare Ok Quindi Ovviamente Non viene Digerito Del tutto Ma viene un po' Fermentato Nello stomaco Di questo animale E poi viene cagato Io il caffè L'ho assaggiato Era buono A livello di sapore Sì Gusto Bevuto il caffè Io già lo sapevo Nessuno mi ha detto niente Ho preso Ho bevuto il caffè Il caffè era Buono Da quanto mi ricordo Sono passati 12 anni 13 anni 14 anni Non mi ricordo E perché volevo provare Sta cosa Lo volevo provare Ho bello questo caffè Bello corposo Cremoso Buono Il concetto No non ero vegano Il concetto Che quel caffè Fosse stato cagato Da un animale Mi disturbava Sì Avrebbe potuto impedirmi Di voler assaggiare il caffè Sì Avrei potuto dire No non lo assaggio Perché non mi piace No Avevo potuto dire Non mi piace l'idea Non mi piace l'idea Di bere un caffè cagato Ma non si basa Però sui miei veri gusti Perché se bevo il caffè Mi piace Bevo il caffè Mi piace Gusto Mi dà fastidio Il fatto che sia stato cagato Concezione mentale Fa parte di Un concetto mentale Ok Non voglio bere Quel caffè Anche se è buono Magari anche fa pure bene Mi fa anche bene Però non lo voglio Non lo voglio bere Perché mi dà fastidio Il fatto che il caffè Sia stato cagato Da un animale Visto che vuoi scendere A questi Questi esempi Scendiamo a questi esempi Però a me A Dalia Il caffè è piaciuto Punto A Rabicocca Il caffè È piaciuto Il gusto Del caffè Gli è piaciuto Gli è piaciuto Il gusto La consistenza La corposità Gli è piaciuto Tutto Ma solo Non gli è piaciuto L'idea Di Della provenienza Di quel caffè Di come era stato fatto Quel caffè E allora lì Magari Abicocca Decide di non berlo più Ma non dirà Non lo bevo Perché non mi piace È una questione di gusti Non lo bevo Perché non mi piace Non lo bevo Perché mi urta Il fatto che sia stato cagato Da un animale Ecco la differenza Ma non la lasci Perché non ti piace Non dici Io la sto lasciando Per gusto No Io la sto lasciando Perché è stata Con un mio amico E questa cosa Mi intoppa Non dici Non mi piace Non dici È un gusto Vedi Cioè ti dai la zappa Sui piedi Da solo Con questi esempi stupidi Più fai esempi stupidi Scopro che una nonna Che mi piace È stata con un amico L'idea non mi piace E lascio la persona Non la lasci perché non ti piace La lasci perché non vuoi stare Con una persona Che è stata con un tuo amico Perché ti crea Dei problemi Magari chiudere gli occhi E vedere Nelle tue immagini Lei che scopa Che amico tuo Ed è una cosa mentale È un concetto mentale Che non Rientra nel gusto Di quella persona Ma del fatto Che tu non ci vuoi Fare qualcosa insieme Poiché è stata Con un tuo amico In questo caso Non vuoi stare Con una trance Perché E se mi dici Perché prima era un uomo Non mi stai dando La definizione Perché prima Stava con un amico mio E beh quindi Cioè ci deve essere Un problema Il problema è che Essendo stata Con un mio amico E continui la frase Mi dà problemi Per questo Questo e questo E questo Il problema Che mi dà una trance È Vabbè Allora recensore Mi ha rotto il cazzo E basta No mi devi dire Perché non mi piace Perché non mi piace Il fatto che prima Fosse un uomo Perché Eh no Me lo devi dire Perché come dire Non mi piace Perché è stata Con un mio amico Vabbè quindi È stata con un mio amico Vabbè quindi È stata con un mio amico Non mi piace Ma perché Perché non ti piace Ma poi non è vero Che non ti piace Non ti piace l'idea Che è stata con un tuo amico Non lei Lei ti piace Ti attizza Ti è piaciuta Mi devi dire Che cosa cambia Mi devi dire Il problema Me lo devi dire Il problema È che Essendo stata Con un mio amico Magari il mio amico Mi sta anche sul cazzo Comunque è un amico Che non lo so Mi crea Dei problemi Il fatto di sapere Che è andata con un mio amico Perché Chiudo gli occhi E immagino Loro due che scopano E rosico Perché lui si è scopato Un sacco di donne Più di me Capito Non lo so C'è sempre un motivo Il motivo per cui Non vuoi andare Che una donna Che è stata con un tuo amico Qual è Sapessi io Harry Sapessi io E il fatto è che Ogni giorno Cioè Si resettano Completamente Magari riesci a Parlarne Parlare E far capire Questa cosa Due persone Poi al giorno Ti rientrano 15 persone Completamente Col cervello Risettato Ti ripetono Le stesse cose Delle persone Il giorno prima Sembra di parlare Con un amico Scemo di Forrest Gump E comunque Complimenti Per il coraggio Di essere uno Su Discord Carissimo Friends 91 Bravo Bravo E poi mi dicono Che non argomento Poi mi dicono Che non sto argomentando Due ore che sto parlando Non ne la faccio più Ma che organizziamo Allora sto I cazzi tua Oh Ma se vuoi parlare Vieni Entri Parli Adesso Di cui sto parlando Di questa cosa Allora so cazzi tua Eh vabbè E mi dispiace So cazzi tua Ti organizzo Mi dispiace Ma tanto Ti ho risposto Ti ho buttato Comunque al culo Ti ho risposto Sei tu Che stai in difficoltà E non riesci a rispondermi Perché io la domanda Te l'ho fatta Non vuoi stare Con una che è stata Con un tuo amico Perché E sto aspettando La risposta Che non mi hai dato Finiamo il video E l'unica Riccomentazione Sono cazzi miei Sono cazzi miei Un po' imbarazzante Comunque Tolto questo Invece dalla parte Delle persone trans Che io non condivido Eh ma guarda che Una persona trans Operata Non si riconosce Che è trans Non è vero Cioè dipende Non è che se una persona Trans si opera Allora tu non puoi capire Che è trans Lo puoi capire Cioè a parte che Non è che una vagina Rifatta Ti rende Esteticamente donna Ci vuole anche Il re Cioè Ti riconduce A un aspetto Aspetto È il cervello Che blocca Non per il pene Ma per il pensiero Che ogni parte del corpo Possa essere Che mi possa piacere Fosse maschile Prima mi farebbe Ma mi spieghi Che cazzo vuol dire Che prima era maschile Che vuol dire Questo braccio Che vuol dire Che prima era maschile Ma che cazzo State dicendo Ragazzi Siete fuori di testa Siete insuppati Di bias Che cosa vuol dire Che le parti del corpo Che c'erano Erano Che vuol dire Un braccio Che cosa vuol dire Io posso dire Guarda Non mi piace Il tuo braccio Perché è enorme C'hai due ossa Così Ok Ma carezzi Mi formati Mi dà fastidio Non mi piace Voi siete Maschi e femmine Fanno parte Della stessa cosa Sono la stessa cosa Sviluppati in maniera diversa Non sono L'alfa da una parte E l'omega dall'altra Distanti Sono la stessa cosa Sviluppata in modo diverso Basta pensare Che il maschile Femminile È una questione Ormonale Che viene poi Anche corretta Di che cazzo state parlando Leggi tutto Leggi tutto Sentiamo Che mi devo incazzare Ancora di più Poi ci sono quelle Davvero belle Che erano femminili Anche prima La trasformazione Ma tanto hanno lineamenti Ma tante hanno lineamenti Mani o altro Che rimangono Con linee maschili Sarò transfobico Ma non ho mai conosciuto Una trans Finché Non farò l'esperienza Non potrò superare Il blocco mentale Però lo riconosci Che è un blocco mentale È un blocco mentale Non è un gusto È un blocco mentale Ah certo Tiriamo fuori di nuovo Edipo con la madre Edipo con la madre Di nuovo Ancora Ancora questa storia Del Edipo con la madre Paragonare Andare con una trans Quando hai con tua madre Fate per curare Perché voi non state bene Mi dispiace Abby Lo so che è dura Non avere il controllo Del cazzo degli altri Ma è un potere Che non puoi avere Scusate ragazzi Fermi 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 Ma voi pensate Che a me me ne freghi qualcosa Se andare con le trans E ci andate A me entra in tasca qualcosa Se Dat Coffee Si scopa 200 trans al giorno O se le Discrimina Raga Parlamosi chiaro A me non mi interessa Sto argomento Non mi tange A me non me ne frega Un cazzo di parlare di questa cosa Per me Non è che io sto facendo questa cosa Perché è una guerra Che io combatto per me Perché non guardo uomini e donne Drogatto Quello che dici quindi Carissimo Radura È qualcosa Che fa parte Dei tuoi blocchi mentali E cosa che hai anche Non lo so Parali Si fa come cazzo Te pare Un coglione Fa come te pare Cioè Si credono Si credono Si credono Svegli Abboccata C'ho 12 anni Con più di oggi Abboccata Imbarazzante A me dà fastidio La disonestà Ed è la stessa cosa Di quando tratto Gli argomenti Sul Aspettate che qui Devo aggiornare questo Tratto gli argomenti Sul 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 mangiare la carne No No io mangio la carne Perché comunque Le proteine No io mangio la carne Perché comunque C'è Un'alimentazione vegetale Non è No perché Io mangio la carne Perché Ciao Lick Io mangio la carne Perché mi piace E sono una persona Tendenzialmente egoista Di cui non mi frega Gli animali Mi voglio sfondare di carne Mi piace Ha un buon sapore Me la mangio Non mi interessa di nient'altro Questa è l'argomentazione Che puoi dare Onesta L'argomentazione disonesta E no io la mangio Trovando 200 scuse E a me Interessa qualcosa Che tu mangi la carne E non la mangi No mi da fastidio Che tu dici Che non mangi la carne Perché Anche le piante soffrono Perché Le proteine Perché La B12 Perché L'alimentazione vegana Non è naturale E fa male Perché Eccetera Grazie Leak Per Il sub Regalato Perché Leone Mangia la gazzella Perché Siamo in cima Alla Catena alimentare Perché Siamo Cacciatori Predatori Eccetera Eccetera Sono queste Le argomentazioni Mi intoppano E ti dicono Non sempre La loro Sei un coglione Questa cosa È la stessa cosa E poverini A me Mi fanno Mi fanno Mi fanno ridere Che pensano Di essere loro Le vittime In questa storia Perché O qualcuno Su Twitch Gli sta dicendo Che loro Hanno un bias Poverini Guarda Deve essere Proprio Dura la vita Per una persona Come voi Essere voi Deve essere Veramente difficile Oh mio dio Cazzo Secondo me Da trans Non avreste Resistito Due giorni Senza la carne Non ci siamo Giusto Direttamente femminile Punto Ci sta il passing Ok E non è che la vagina Cambia il passing Più di tanto Anzi Non credo Che lo cambi Proprio Quindi se tu C'è un basso Passing E ti fai la vagina Rimarrai Con un basso Passing Quindi se una persona Viene Ma chi te se in culo Harry Becca la persona trans E riconosce subito Che è trans E non gli piace Perché C'ha dei lineamenti Troppo maschili Qui proprio La transfobia Proprio non ce sta Semplicemente Lì rientra il gusto Ma neanche Cioè Capito Non è che Si parla di essere Condizionale La vedi È quello che vedi Pum La vedi Parlamosi chiaro Ma che è nomo Perché è quello che succede Raga Dai Parlamosi chiaro Non fanno i vinti buonisti Eh Ma quante volte Può capitare Sotto il giorno d'oggi Che vieni la persona E dici Non riesce a capire Se è uomo o donna Con me lo fanno sempre Che vedevo di Parlo Ogni volta che parlo Ma che è nomo Cioè nel senso È nomo No Figuriamoci se Sta lì interdetto Magari ci può sta Che non gli piace Qua persona Perché c'è Nenamente troppo maschili Non c'ha un buon passing E quindi non gli piace Non è Transfobia Quella non c'è E non è neanche un bias Quello lì rientrano i gusti Non rientro Nella 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 questione di prima Quindi Eh ma una vagina rifatta Non lo puoi capire Non è vero Ma una persona trans E Dopo la vagina plastica Non lo riconosce Non è vero Dipende Dipende Ci sono persone con un alto passing Che non lo riresti mai Finché non gli vedi il cazzo Se il cazzo Se lo so tolto Non lo diresti mai Neanche per quello Perché neanche quello c'è Quindi non lo diresti mai Punto E sono persone Che lo diresti E persone operate Che lo diresti Dello stesso modo Punto Fine Quindi Però se l'operazione è fatta bene Se ci stanno determinati criteri Sì Si può arrivare A non capire Che una persona è trans Ma pure questa cosa Capire Vabbè Ho capito Comunque Non riuscire a distinguerla Ecco Da una donna cis Va bene Chiuso pure sta cosa Per quanto riguarda La giustezza Di dirlo prima O no Io non so D'accordo Con non dirlo A meno che Ti devo fare una fregata Perché Per la storia Della voce Lo fanno per la voce Soltanto su Twitch Però Dal vivo mai Vieni Vieni Psicopompo Vieni Accomodati Però Non ti vedo entrare Nel canale Come mai Ehi Che cazzo fai Ciao Allora Su Twitch Qui su Twitch E solo qui su Twitch Un sacco di gente Mi chiede Oh ma è uomo o donna Ma è maschio o femmina Solo su Twitch Però succede Dal vivo Mi tocca litigare Con le persone Perché Non credono che sono trans E su internet Persone che mi sentono Parlare due secondi Ha enomo Grande giostra Della mia vita Vado al bagno Perché La disana Come al solito Ha fatto il suo effetto Però vi lascio col video Almeno Ok Te fai Tinder Vuoi solo scopà Con gente che becchi Una volta Una vedi più O un paio di volte Una vedi più Ma chi te si è in culo Ma non lo dico Ma chi te ne vede più Ma che me frega Non In quel caso È una cosa personale Voglio farmi una fregata con te Tu manco te ne accorgi Quindi Chi te si è in culo Ciao Ok Lo posso anche capire E ce può sta Che non lo vuoi dire Ma perché proprio Cioè Infognassevi una cosa Che dura di meno Una scopala quasi Che tu che gli spieghi Che sei trans Quindi Ok Ma se tu c'hai intenzioni Con questa persona Te piace Gli piaci Ci vuoi uscire E non glielo dici Con la scusa Del Eh Però io Potrei avere paura Che mi mena Al primo appuntamento Non mi sento di dirglielo No Dei al quinto Così se te mena nel primo Magari Se io dicevi subito Se incazzava E te lasciava là Al quarto appuntamento Te massacra Ma che cazzo di discorso è Ma se Ma tu veramente Vuoi uscire con una persona Di cui Hai paura Che questo te mena E non solo Ci esci Ma non glielo dici Perché nel primo appuntamento Troppo rischioso Nel primo Ma se vuoi vivere al rischio Io lo dici prima No perché non voglio Manco essere scaricata Ma come ti va Di uscire con una persona A cui potrebbero fare schifo Con le persone come te A me Non ha senso Non dirlo Alle persone con cui C'hai intenzioni serie Con cui vorresti Proprio non c'è senso Non c'è nulla di vantaggioso In questo Perché rimandi Ovviamente poi La persona Magari dopo il quinto appuntamento Dopo un mese Dopo due mesi Viene a scoprire Sta cosa Te manda a fanculo E magari Se l'avessi detto prima Manco l'avrebbe fatto E se ti dice male Te mena pure Eh ma sai Esco con una persona Alta due metri Posso averci paura E ci esci E tu rischi E metti che se ne accorge E se se ne accorge Che fai Che fai Ma che discorso è No Cioè Per una questione di rispetto In primis Verso di te Perché Uscire con una persona A cui potresti fa schifo Non è Mi sembra il massimo A cui ambì Quindi Massimo Prima rispetto per te E poi rispetto per quella persona Magari Per i suoi bias Perché magari Quella persona Ha dei bias Non va condannata Questa persona Magari cambierà nel tempo Magari avrà la sua fase Ma in questo momento Magari ha dei bias E non è giusto Non voglio usare la parola Ingannarlo Piarlo per culo Però comunque Se a lui Quella determinata cosa Non piace E tu gliela nascondi Non è bello Non è Non c'è rispetto Da questo punto Di vista No essere trans Era in crimine No essere trans Non c'è niente di male Siamo d'accordo Ma se quella persona Potrebbe avere De bias Potrebbe avere Una transfobia Interiorizzata Per una questione Di fattori esterni Non perché lui È un pezzo di merda Ma tante persone Magari Hanno avuto Della transfobia Che poi hanno mandato via Semplicemente Crescendo Frequentando Determinati ambienti No magari Molti di noi Siamo stati bigotti E poi non lo siamo stati più Magari quello Stanno nella fase Bigotto Lascia Per me non è corretto Per me non è corretto Non dirlo E non c'è nulla De vantaggioso Eh ma sai Questa persona Potrebbe avere paura Di perderlo Ripeto Ma ma io perdo prima No vuoi perdere dopo Così soffrire tutte e due Così dopo il quinto Sesto appuntamento Stare infognati Tutte e due E poi gli vanno a distacco Ma che cazzo di senso c'ha Non c'ha senso Cioè è proprio svantaggiosa Se non che è proprio pericolosa Perché se proprio Vuoi venire a parlare Di pericolosità Della cosa Perché al primo appuntamento C'ha paura che te mena Ma io tasto al terreno Ma lo tasterei prima Al terreno no Prima di uscirci Questo potrebbe essere Inserial kill Che cazzo fai Esci così a caso Non lo so Cioè se la tua premura è La paura che questo Devo fare del male Ma te informerai prima Che questa persona No? Un po' ci parlerai Tasterai il terreno In quel modo No Fate come mi pare Comunque per quanto mi riguarda Per me non è Assolutamente Una buona idea Non dirlo Aspettare E ripeto Per rispetto vostro E per rispetto suo E per la vostra incolumità Quindi È giusto non dire Secondo me no Secondo me no Però ognuno fa come cazzo mi pare Se la gestisce come vuole Per carriera del dio Così come le persone Possono Scegliere Non andare con le trans E le trans possono scegliere Non dire Poi le conseguenze Vi pagate voi Detto questo Fatemi sapere Cosa ne pensate Questo è il mio pensiero Sul video di Twinir E Per quanto riguarda la voce Ragazzi io posso Modularla Posso togliere Accentro mano Cioè potrei parlare così E potrei parlare così Praticamente sempre E potrei anche cercare di Levare L'accento romano E usare Diciamo Una dizione più corretta Accento toscano? Eh non riesco Eh non riesco A fare attenzione No attenzione Sono ridicola Perché non mi conosci Volevo dire Sono ridicola Perché mi conosci Quindi Conoscendomi E sentendomi Parlare così Dici che sono ridicola Ma io non lo so regà Potrei parlare in In diversi modi Io lascio andare La voce abbastanza bassa Perché Perché è più scazzata Cioè più Più così raga Più È una cosa più scazzata Cioè A me che cazzo Me ne frega Cioè Non so neanche Qual è la mia cazzo Di voce vera Onestamente Perché Ci gioco così tanto Con la voce Che Non lo so Non lo so Però Se direi che la mia voce È ridicola Stare dicendo A Ragazzi Ragazzi Se io parlassi così E voi trovaste La mia voce Ridicola In questo modo Che onestamente Non c'è niente Di ridicolo In questa voce Ma per voi È ridicolo Perché Conoscete La mia voce Già No Quindi Passare dalla mia voce A passare a questo Lo ritenete ridicolo Ok Però Allora Cioè Ritenereste La voce di Carly Ridicola Che Allora Ragazzi Premessa Come ho fatto Negli altri video Non ci saranno tagli Non è ridicola questa Quindi potrei dire Cazzate Potrei un attimo Intopparmi Voglio essere più onesta Possibile con voi O comunque Cioè Sto colore dei capelli Che sta un sacco bene Non lo state vedendo Scusate Sto colore dei capelli Che sta un sacco bene Cioè Secondo me È proprio Armo cromatico Poi sei infregnita Una cifra E vorrei parlare Dall'argomento di ieri Quindi L'argomento di Sanremo Che Cozzalone Su stand up comedy La sua canzone Meravigliosa Che mi ricorda molto La canzone Sull'omosessualità Che di Pappa Facciamo un po' ridere Molto meglio Di quando li aveva rossi Rosci Molto meglio Ho visto le foto Che mette su Instagram E quindi Non volevo assolutamente dire Che era ridicolo Quel tipo di voce Ma riferire al tuo Ma tu che ne sai Qual è il mio tono E magari se il mio tono Fosse questo E se io parlassi così E se io parlassi così E se la mia voce fosse questa Eh No La mia voce è questa Che ne sai qual è Che cazzo ne sai Qual è la mia voce Scusa Sai Sa della Dina Sai che è la mia voce Perché Questo è il tono Che generalmente tratto E E porto Porto di solito Però in realtà Potrei portare A volte magari Anche questo tono E parlare In maniera scazzata Perché mi avete rotto il cazzo E quindi parlo così Parlo romanaccio Abbasso ancora di più la voce Perché Andare venuti a fanculo Ma che cazzo Vese in culo Vedete Posso modularla Come Come voglio Soltanto che ho deciso Di portarla Così perché Boh Non c'è in realtà Un motivo Lo so Anche prima di iniziare Dal tuo percorso Vi la stessa voce Di adesso No la facevo La facevo Più bassa È capitato Di essere stata Lasciata Da Da Delle ragazze Da ragazzo Poiché Avevo degli elementi Troppo femminili Tipo Eh no Perché Le tue mani Sono troppo femminili La tua voce Il tuo aspetto E quindi magari Cercavo di Ingrossarla E quindi parlavo Tipo Cioè comunque Parlavo così Cioè parlavo proprio Più basso Perché Comunque ho fatto Una cosa Cioè comunque Capito Parli più basso La fai più bassa Però la voce Tendenzialmente Non è mai cambiata È cambiato Il modo in cui Io ho iniziato Ho iniziato A utilizzarla Quindi magari Non rendendola Così bassa Però È divertente Giocare Giocare con la voce È un sacco divertente Come dire Mi piace fare le voci Mi piace fare le voci E infatti Proprio perché Mi piace fare le voci Io vi ricordo Che ho fatto Questo Sì sì Ho fatto Regà Allora La musica Tutto che riguarda La musica Quindi la musica No Tutto ciò che sentite Oltre la musica Quindi le voci E i suoni Sì E non è che Cioè È stato un po' Un po' difficile Non è meritocratico Questo mondo ragazzi E soprattutto YouTube Non è meritocratico Guardate qui 5000 visual 31 ottobre 2020 Gag di Zalone Saremo Transfobia 25000 visual Un giorno fa Vabbè È andato È andato così Purtroppo è andato così Ma dovrei fare È che il fatto Che se vi faccio Re del blu Ci sta solo Non è Non è troppo Stimolante Perché ci sta Soltanto Renato Zero Che canta Sarebbe rifà Una cover Di una canzone Praticamente Invece Invece Quelle che ho fatto Erano simpatiche Perché Faceva più voci Di Nightmare Before Christmas Però belle Cioè Si può fare Ma chi cazzo Ha visto In canto Ma Io ho fatto queste Perché le canto Da quando so piccolo E quindi Che succede Jack Che succede Jack Sì ma Che succede Jack Si chiama Oddio Com'è che si chiama Quel pezzo Perdonate Lundini down Qui nelle ricerche Il video che ho fatto Di ieri Iva Zanicchi Caga in studio Me l'hanno detto Ieri Non ci credevo Dovevo vedere il video Vabbè Mi ricordo Come si chiama La canzone Comunque Avere una voce Così Modulabile È molto divertente Luca Luca Non ho più Parita di che cazzo Stai parlando Perdonami Non so di che cosa Parli Se vuoi Parla la mia lingua Altrimenti Accanna Perché non te Se sto a seguire Va bene Chi devo ride No Luca Non ce l'ho Con te Ce l'ho Con Luca Nonnis No rega Non sono Patita per i Classici Disney Mi piace Night Before Christmas Mi piacciono le sue Canzoni Chi è Simpo Simpo Ah Ma sei venuto Su Discord Dove stai Non ti vedo Mi dispiace Quella del video Che cazzo è Ma chi è sta Chi è sta persona Non so che vuol dire simpo simpo Non so chi sia Ma non è quella del video simpo simpo Non so chi sia questa persona Quando parli le lettere S Tendono a sibillare Ti sto ascoltando su dei monitor da studio Ma potrebbe non essere un problema Della tua voce Ma di scheda audio e microfono E se fosse la mia voce Come risolverei scusami Non diciamo più parole T'ho adottata Botto pale Come se avessi No non ho detto Come se avessi il rappedore Posso reclinare un ride? Posso non fare un ride a questa persona? Questa persona è americana? Fa freddo Ah è spagnola? È argentina Ma se andiamo da Junkel Mi sembra un ottimo Mi sembra una Questa mi fa pure bannare Guarda Mi sembra un'ottima idea Maurizio Cottanzo Guarda sulla tua chat di Discord Mi riusciumando che mi mandai qua Ah no Devo andare giù A me hanno detto Che Eren Jaeger Era un altro profilo E comunque ieri non hai parlato Quando ti ho messo in stanza Ieri ho messo in stanza C'erano gli altri E non hai parlato Ah Ok È simpo simpo Fitto Vabbè non osterò simpo simpo Sì simpo 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 Eh Psycho Ormai è tardi È l'una E siamo rotti il cazzo Tutti quanti Mi dispiace Voglio di non far coglione Magari qualcuno L'avrebbe creduto prima Mi ha passato anche a voi Sinceramente Spiace Mi spiace Andata così Ciao Buonanotte Grazie Attenzione Grazie